Un cordiale saluto e un buon inizio settimana a tutti gli appassionati di sport ed è un inizio di settimana positivo per i tifosi rossoneri perché è arrivata la sesta vittoria consecutiva in altrettante gare per la squadra di Giovanni Stroppa. Sesta vittoria che è arrivata ieri sera allo stadio Pino Zaccheria contro il Taranto nel derby vinto dai rossoneri 2-0 grazie alle reti di Angelo e Letizia che hanno risolto la gara nella ripresa. Una gara spigolosa, una gara che ha visto il Foggia dominare nel gioco ma che il Foggia ha visto soffrire soprattutto nel primo tempo perché il Taranto era tutto rintanato nella propria metà campo, c'era addirittura una linea di 5 uomini davanti al portiere Mauro Antonio con anche un mediano, quindi spesso il Taranto si difendeva con 6 uomini davanti al proprio portiere ed era davvero difficile per il Foggia vincere. È arrivata comunque la vittoria, il record continua a maturare per il Foggia con questa sesta vittoria consecutiva, solo Foggia nel girone C e Alessandria nel girone A sono a punteggio pieno dopo le prime 6 partite. Foggia che ha staccato nuovamente il Lecce che nel pomeriggio aveva vinto a Siracusa e l'aveva momentaneamente sorpassato. Quindi vediamo i risultati e le classifiche della giornata di ieri con il Siracusa che ha perso in casa 2-0 contro il Lecce, anche il Matera vinto fuori casa a Francavilla per 4-1. Nel pomeriggio c'erano state tante vittorie esterne come quella della Casertana 1-0 a Vibo Valencia, del Monopoli 2-0 a Pagani e del Messina 1-0 a Catanzaro. Pareggio 0-0 tra Regina e Cosenza, poi in serata le vittorie casalinghe di Fidelisandria e Foggia su Melfi e Taranto e poi il pareggio tra Fondi e Juve Stabia con la vittoria a sorpresa anche un po' dell'Akragas sul Catania. La classifica sorride ancora ai rossoneri che sono in testa con 18 punti. Vediamo appunto la graduatoria del campionato di Lega Pro dopo la sesta giornata con il Foggia in testa con 18 punti, Lecce 16, Matera 14, Juve Stabia 13, Cosenza e Casertana 10 punti, via via tutte le altre con in fondo la classifica. Il Catania che resta a meno un punto e quindi è stato un Foggia che ha battuto il Taranto in modo positivo perché c'è stata una prova sicuramente molto molto brillante della squadra rossonera, 6 su 6 e allora vediamo questo servizio. I rossoneri fanno 6, inteso come vittorie consecutive e scacciano nuovamente l'attacco portato da Lecce nel pomeriggio di ieri. Vittoria 2 a 0 nel derby contro il Taranto dopo una buona prestazione nonostante il tasso di difficoltà fosse elevato, prima di tutto perché non era semplice ottenere la sesta vittoria consecutiva. E poi, dato importantissimo, gli avversari rosso-blu sono scesi a Foggia per fare le barricate e difendere a denti stretti il pareggio iniziale. Così il Foggia di Stroppa fatica un tempo prima di trovare la rete che sblocca il risultato. Prima frazione di gioco con poca velocità, soprattutto negli ultimi 20 metri, con i Tarantini tutti rintanati nella propria metà campo. Al dodicesimo vacca scalda le mani di Mauro Antonio, poi la partita viene sospesa al ventottesimo minuto per soccorrere Altobello, accasciatosi al suolo per un trauma cervicale. Nulla di grave per il calciatore Tarantino, comunque trasportato in ospedale. Nel finale di tempo, occasione per Angelo, con il portiere Ionico ancora bravo a chiudere lo specchio. Mazzeo è anticipato dall'ex Pambianchi, poi Cedric mette i brividi alla difesa del Foggia, leggermente disattenta. Si chiude la prima frazione sullo 0-0, poi nella ripresa la svolta. Colpo di testa di Mazzeo di poco alto, lo stesso attaccante rosso-nero pesca Angelo sulla destra. Il terzino brasiliano si concede un gol da applausi con un tiro cross imprendibile. Prima rete stagionale per lui. Stendardo testa l'attenzione di Guarna, bravo a rispondere sul colpo di testa del difensore Tarantino. E poi ancora Sarno trova Mauro Antonio, che si rifugia in angolo. Di nuovo Mazzeo, ancora di testa, di poco a lato. Per il Taranto entra Viola e cerca di ravvivare l'attacco rosso-blu, ma è solo un episodio. Il Foggia si rituffa avanti con Agnelli su punizione. Calciata a lato, poi il colpo del K.O. di Letizia, imbeccato da un cross basso di Riverola, subentrato poco prima a Gerbo. Foggia, che mantiene a distanza il Lecce, si tiene stretta la vetta della classifica e il record di 6 vittorie su 6. Avete visto il gesto atletico anche di Letizia. Felicissimo dopo la partita. Lo ascolteremo tra poco ai microfoni dei nostri colleghi di Foggia Città Aperta. Intanto ricordiamo che le condizioni di Altobello, lo ribadiamo, sono tranquille. Quindi nulla di grave per il difensore del Taranto. Condizioni sotto controllo per lui. Dicevamo, i colleghi di Foggia Città Aperta a fine partita hanno ascoltato Empereur, ancora positiva la sua prova in difesa. E poi anche l'autore del gol del 2-0 al 92, Simo Letizia. Era una partita difficile, il Taranto l'ha preparata bene, si sono chiusi dietro benissimo. Abbiamo fatto un gran gol con Angelo, un po' fortunato, però frutto del nostro possesso, frutto del nostro gioco. Siamo stati bravi a entrare subito in partita. Hai cambiato il compagno di reparto, però ti sei trovato bene ugualmente o come hai visto questa squadra? Sì, sì, io mi trovo bene con tutti. Chi gioca sceglie missi, siamo una squadra fortissima. Chi gioca non cambia mai il risultato, siamo tutti bravi. L'Oviacono si è fatto trovare pronta, ha fatto una grandissima partita. Poi c'è stata anche una prova di maturità da parte della squadra, sia perché c'erano i risultati nel pomeriggio che imponevano la vittoria, sia perché non trovando spazi, soprattutto nel primo tempo, ci si poteva innervosire. Sì, noi non guardiamo mai gli altri, guardiamo sempre noi. Noi siamo stati bravi oggi ad essere pazienti, perché Taranto nel primo tempo si è chiuso bene, abbiamo avuto pazienza e l'abbiamo sblocato. È un ottimo gruppo e questo ci aiuta anche tanto e si è visto dall'abbraccio come l'ho fatto dopo un gol. Cosa si prova da attaccante a dover giocare una decina di minuti e cercare di convincere il mister? Io cercherò di metterlo sempre in difficoltà e poi metterlo in difficoltà, perché siamo in tanti e siamo uno più forte dell'altro, di entrare e fare come oggi. Oggi la partita era anche un po' bloccata, il Taranto si difendeva soltanto, quindi era difficile trovare spazi. Eh sì, le squadre che affrontiamo, soprattutto queste qua, più di basso livello diciamo, però, no, tanto basso, però sono squadre che vengono qui e si vengono sempre a chiudere, fanno più la fase difensiva che quella offensiva, perché sappiamo quando giocano contro il Foggia o Lecce oppure Matera, cercano sempre di portarsi anche un po' di cino, poi fuori casa, per loro è un ottimo risultato. Chiudiamo questa prima parte dedicata al Foggia Calcio, al campionato di Lega Pro, ricordando l'appuntamento di questa sera con Zafò, la trasmissione di Lello Scarano, in cui si andrà ad analizzare questa sesta vittoria consecutiva del Foggia contro il Taranto. Si analizzerà il momento rosso-nero con un ospite d'eccezione, il direttore sportivo del Foggia Calcio, Beppe Di Bari. Quindi non mancate l'appuntamento con Zafò alle ore 21 di questa sera. Rimaniamo nel calcio, scendiamo di categoria, andiamo a vedere cosa è successo in Serie D. Non ha sorriso ai colori delle squadre daune questo fine settimana, quarta giornata del campionato di Serie D, tre sconfitte su tre, il Manfredonia perde 3-1 a Francavilla in Sinni, perde anche il Madrepietra Pricena 2-3 con il Picerno e perde 1-0 il Sansevero sul campo della Nocerina. Vediamo la classifica della Serie D con in testa il Gravina, sorpresa, la neopromossa Pugliese in testa con 10 punti davanti a Trastevere, Potenza 9, Bisceglie, Ercolano 7, Francavilla, Nocerina e Sansevero 6, via via tutte le altre, con all'ultimo posto Madrepietra, Daunia, Pricena e Manfredonia con soli tre punti. Scendiamo ancora, vediamo in eccellenza, c'è stata una nuova giornata, la terza per il massimo campionato regionale, Vieste che pareggia sul campo del Blasonato Barletta, pareggio in extremis anche per l'Audace Cerignola sul Gallipoli, in realtà è stato raggiunto l'Audace Cerignola in extremis dai padroni di casa del Gallipoli, la classifica vede in testa, vediamo, passiamo adesso alla classifica con in testa l'Altamura, 9 punti, l'Audace Cerignola a Casarano e Otranto con 7, il Bisceglie e Bitonto a 6 punti, Atletico Vieste, Barletta e Galatina con 4, via via tutte le altre. Promozione, andiamo velocemente a vedere anche qualche risultato della promozione, anche qui terza giornata, spicca la vittoria nel derby dello Sportingordona 3-1 sul Real City di Stornara e Stornarella, pareggio per l'Ascoli-Satriano sul campo della Nuova Molfetta, vince il San Marco in casa contro il Turuli e Grotte, perde in casa il Monte Sant'Angelo. E chiudiamo con la prima categoria, vediamo qui la classifica, l'Omnia-Bitonto in testa, le foggiane sono un po' attardate, tutte nella seconda parte. E chiudiamo con la prima categoria, c'è stata la prima giornata, sconfitta per la Polisportiva San Marco a Barletta, pareggio per l'Aerdonia a Molfetta sul campo della Virtus e vittoria a Casalinga, 2-0 del Celle di San Vito contro la Virtus Sandria, perde lo Sportingapricena a Trinitapoli. Naturalmente la classifica vede le squadre che hanno appena vinto con 3 punti, contro un punto per Erdonia e Virtus Molfetta, tutte le altre ne hanno 0, il giovinazzo ha riposato. Abbiamo detto, c'è stata una partita importante, in promozione un derby, quello tra Real City di Stornara e Stornarella, e lo Sportingordona, ce lo racconta Luca Caporale. ...della terra arbitraria, vediamo qui il fischio di avvio della partita, tanti axi in campo, qui il calcio d'angolo, subito il gol del vantaggio siglato da Rocco Quaresimale, che di testa approfitta di un errore in fase difensiva della formazione di Mister Lomuscio, e porta in vantaggio la formazione ospite, rivediamo qui il calcio d'angolo e lo stacco di testa del numero 10. Sportingordona con questo calcio di punizione, arriva Alessandro Montemorra, la conclusione, sfortunato stango e il pallone finisce in rete, secondo gol in campionato per Alessandro Montemorra, ancora sul calcio di punizione per il terzino Foggiano, il gol che porta allo Sporting sul 2-0, 2-0 ripresa che si apre con lo Sporting in avanti, qui il lancio cercare ancora Quaresimale, bellissima la giocata di Rocco Quaresimale, il gran gol del numero 10 ex Atletico Vieste, Manfredonia e tante altre formazioni nella carriera del giocatore carapellese, che mette in gol il 3-0, quindi qui ancora la conclusione e ancora qui la Real City con questo pallone che fece in aria, c'è il fallo di mani di Mascia e il calcio di rigore per la Real City, protestano, chiedono addirittura l'espulsione, qui pensa che trasforma il rigore e il gol. Ancora la Real City con questo lancio a cercare ancora la conclusione, il gol che però viene annullato, era stata chiamata la posizione regolare fuori gioco, vediamo però che non c'era la posizione regolare. Io non è che mi posso lamentare, perché sicuramente lo Sporting Ordona è più squadra, lo devo ammettere, se non che io mi aspettavo un arbitraggio adeguato per un derby, diciamo locale, quindi non è stata l'altezza della situazione. Io rimango sempre sulla stessa linea, Luca. Noi veniamo da due partite fatte in campionato, dove la squadra si è espressa bene e ci è mancato solo il risultato pieno, sia a Rutigliano che in casa col Polimia. Oggi abbiamo associato le due cose, una buona prestazione, squadra molto pratica, al risultato e sono contento innanzitutto per i ragazzi. Sono contento per la gioia personale, ma soprattutto per questa vittoria arrivata oggi nel derby, che ci mancava. Erano due domeniche dove tutti quanti siamo stati autori di una buona prestazione, però purtroppo è stentato ad arrivare il risultato. Queste le parole dei protagonisti al termine delle immagini della gara tra Real City e Sporting Gordona erano nell'ordine il presidente della Real City di Stornare e Stornarella, Mario Fiordelisi, il tecnico dello Sporting Gordona, Zito, e poi anche l'autore della doppietta Rocco Quaresimale, vero e proprio protagonista in campo. Avete visto anche il campo polveroso della città di Stornare, c'è un progetto per il campo in erba sintetica, vedremo naturalmente se la politica locale manterrà le promesse date ad inizio stagione durante l'estate. E chiudiamo con il basket, perché si è giocata la prima giornata del campionato di Serie C Silver, risultati altalenanti per le foggiane, con la Castellano Udas di Cerignola, che ha vinto di 25 a Bari, vince anche di 10 punti la Bisanum Vieste su Libertas Altamura, perde nettamente la Diamond Foggia, 31 punti di distacco sul campo di Ruvo, così come il derby tra Olimpica Cerignola e la Tamma Angel di Manfredonia, se la giudica la squadra cerignolana con il punteggio di 83 a 78. La settimana prossima partirà anche il campionato di Serie B di basket, con la cestistica Sansevero impegnata in questa categoria nazionale importantissima. Vi ricordo in chiusura che questa sera ci sarà una nuova puntata di Zafo, il talk show sul Foggia Calcio di Lelo Scarano, ospite in studio il direttore sportivo del Foggia Calcio, Beppe Di Bari. Per noi è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.